Ciao ragazzi, benvenuti oppure bentornati sul canale Tandem, un saluto da Stefano e un saluto da Gabriele. Oggi siamo qui finalmente per decretare il vincitore di quel contest che è stato particolarmente complicato riguardante le vostre collezioni. Sì, nello specifico vi avevamo chiesto inizialmente di inviare dei video, poi ci sono stati dei problemi per quanto riguarda il discorso dei minorenni eccetera eccetera, quindi abbiamo mantenuto solo alcuni video e poi vi abbiamo chiesto di inviarci le foto, con le foto è andato decisamente meno. E' andato decisamente meglio, ne avete mandate veramente tante e noi ne abbiamo scelte un certo numero, le conto perché non mi ricordo quanti sono, dovrebbero essere una decina. E non ci sarà... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, qualche cosa. Una decina. E non ci sarà estrazione perché abbiamo deciso di scegliere quello che era il messaggio più simpatico, la foto più bella. E così non ci sarà estrazione. Quindi non è un contest democratico, qui vige la dittatura. No, è meglio che non è un contest in cui c'è un'estrazione, è un contest protempore. Che sono molti dire così a caso. Sigla. Sigla. Ehi, benvenuto su Canonale. Vogliamo partire facendovi vedere quelle che sono le foto che abbiamo scelto noi come le più belle, le più colorate, le più ricche, le meglio fatte. Perché alcune erano talmente sparate e flesciate che non si vedevano. Esatto. Cominciamo con la collezione di Jessica Palermo che ci presenta su un ripiano di tre piani, quindi non è un ripiano, è un trino scappato. Vediamo in cima le... Bertanucca ninja. ...con un Doraemon posto sotto di loro come per dire adesso lo picchiano dall'alto. Poi sotto vediamo le principesse della Disney con tutta la sezione Disney. Ah, Shrek al completo. Esatto. E poi sotto ci sono altri personaggi della Disney. C'è la famiglia di Griffin e Futurama. Molto, molto bella, la state vedendo anche voi, ma andiamo avanti. Sì, quindi approfittiamo anche per salutare questi utenti. Salutiamo quindi Jessica Palermo. Poi abbiamo White Rabbit Matteo che ci ha mandato un paio di foto. Abbiamo scelto per farvi vedere quella della vetrina, quindi nella... Perché si vede un hip hop dal davanti. Nell'altra foto invece si vede un hip hop nella scatola, ma è un po' più anonima. Molto, molto belli anche su hip hop. La fa da padrone la serie di Game of Thrones. In cima infatti con anche l'adesivo dietro che non si vede un granché perché c'è il mobile chiuso. Potevi aprire il mobile, però... No, però molto, molto, molto belli. E non poteva mancare nella sua collezione una nostra caramica che è Harley Quinn. No, per dirlo io, bravo, bravo, bravo. Beh, andiamo avanti e salutiamo White Rabbit con il letto bianco. Oh, abbiamo il signor Guido ragazzi. Una nostra vecchia conoscenza, vincitore di un paio di contest che salutiamo appunto anche lui, che ci ha mandato una foto... Mi ha andato a pagare la sua spalla. Che ha mandato una foto panoramio, praticamente questa collezione di pop sull'orizontale. Notevole, notevole, notevole. Molto, molto bella, sì. Tra l'altro anche lui è un cultore dei... Fun fiction. Dei funko dedicati alla musica. Vedo un Lemmy Kill Mister e una Amy Winehouse nella sua collezione. Quindi, ciao Guido. Ciao Guido, bella collezione. Ho perso... Hai perso... Ho perso le parole. E poi ho perso un dito. Poi che capirà. Poi abbiamo la collezione di Frederico. No, è Drenic. Fredric. Frederico Braghiroli e ci mostra i suoi cinque fantastici pop. Devo dire che sono molto belli. Ma questo qua è quello del mare. Aquaman. È quello del mare. È il bagnino. È il bagnino. Il bagnino. Il bagnino del bagnino. Abbiamo una joker Tuxedo con il suo completo appunto da cerimonia. Poi abbiamo un pop di Alien, la regina di cuori che mi manda di fuori. Pop di Alien? Ah, il primo. No, lui com'è che si chiama? Non mi ricordo. Freddy Krueger. Krueger. Bravo, bravo, bravo. Il macellaio matto. No, non ci vedo una mano. Per questo di sé. Non lo so. Andiamo avanti. Federico. Ciao. Grazie per la foto e sei comunque in questa top ten, se sono dieci perché non me ne ricordo. Sì. E per ultimo ovviamente vi sveleremo che abbiamo scelto come vincitore. Adesso abbiamo la collezione di Simone Bancherio. Caro Simone, abbiamo un messaggio per te. Dillo pure. Dovresti andare, premesso, è ormai troppo tardi perché il tempo è scaduto e quindi mi dispiace, però dovresti andare a guardare il video che si chiama Conte, distrazione Conte, 650 iscritti. Tu guardalo. Tu guardalo. E poi mandaci un messaggio. E poi mandaci pure anche a Chagare. Tu guardalo. Comunque vediamo la tua collezione. Vediamo chi c'ha Simone Bancherio. Simone Bancherio. Uuuuh, i sette nani. E lui predilige quelli che sono i pop horror, quindi vediamo i sette nani. Perché? Ah, c'ha un nano. E non in casa, nel senso, c'ha un pop didotto in casa. Bello, molto bravo e soprattutto perché il pop didotto vale abbastanza. Nel senso che era nel box della Disney Treasure. Disney Treasure. Quindi bella collezione anche la tua. C'è qui da parte un... Jack Sparrow. Jack Sparrow. In versione Mystery Minis. Molto bello. Molto, molto bello. Bravo Simone, guardati il video dei... 650 iscritti. Guardalo. E poi scrivici in privato. In privato, dai. Andiamo avanti. Ciao Simone. Il prossimo pop, non è vero, la prossima collezione di pop è quella di Daniele Marra e qui vediamo la sua collezione posta davanti ad una serie di film. Sì, tra l'altro devo dire che nella sua collezione vedo una grandissima news. Perché da Space Jam vedo che nella sua collezione c'è Bugs Bunny con il pallone da basso. Complimenti. Complimenti. Al nostro Daniele Marra e tra l'altro vedo anche un bel DVD di Trainspotting. Bravo. Bravo, bravo. Uno dei miei film preferiti, soprattutto con una sonora fantastica. Fantastico film. Ultima, ne manca una. Manca l'ultima fotografia. L'ultima fotografia, eccola qua, guarda quanti sono e ce la manda Ale la formica. Ciao Ale la formica. Che sarai un Ale piccolino probabilmente. In realtà si chiamano Alessia e Roberto che salutiamo. Ciao Alessia, ciao Roberto. Io sto guardando i pop, vedo se c'è qualcuno che mi interessa. Mi piace molto questo Clark Kent che apre la camicia e fa vedere il simbolo di Superman. Bellissimo questo sempre dai Pirati dei Caraibi. Sì, molto molto bello. E poi anche lui, grandissimo, o loro, grandissimi estimatori di Game of Thrones. Sicuramente una delle serie che ha colpito di più, non solamente televisivo, ma anche per quanto riguarda i fan su pop. Arriviamo al dunque. Arriviamo al dunque. Arriviamo al dunque. Chi sarà il vincitore di questa classifica, che non è una classifica, di questo contest, che non è neanche un contest. Un bel respiro. Ragazzi, abbiamo scelto in base alla fotografia, alla qualità della fotografia, ai personaggi, al messaggio che ci avete mandato. Insomma, abbiamo scelto una serie di cose. Un ensemble, un ensemble. Non necessariamente un po' più rari, un po' meno rari. E il vincitore di questo contest... Chi è? E Ale, la formica, che sono in realtà Alessia e Roberto, che salutiamo. Ci hanno scritto che ci seguono, che sono una coppia. E quindi noi li salutiamo molto clarosamente, la vostra collezione, quella che ci ha convinto di più. Che si arricchirà di un pop. Dovete contattarci nella nostra pagina Facebook. Troverete qui l'indirizzo. Probabilmente ci seguite già su Facebook. Noi vi daremo tre pop. Ne potrete scegliere uno di qualsiasi. Se non avete Facebook, potete mandarci una mail a officialtandemchiocciolaoutlook.com Mi confondo sempre. Oppure scriverci nella posta privata di YouTube. Sì, noi vogliamo darvi questa possibilità di scegliere tre pop. Se poi magari nella mail ci indicate anche una delle serie che vorreste ricevere. Vediamo se possiamo compiuntarvi. Esattamente. Quindi ragazzi, questo contesto è ufficialmente chiuso. Salutiamo Alessia e Roberta. Alessia e Roberta? No, non lo so. Alessia e Roberto, scusate. Gli facciamo ancora tanti complimenti e basta. Sì, volevo ricordarvi inoltre che voi potete continuare a inviarci le foto delle vostre collezioni perché... Nere... 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 Vorrei ricordarvi che potete continuare a inviarci le foto delle vostre collezioni perché vorremmo fare una sorta di, diciamo, catalogo così per poi fare un altro contesto. Quindi quando arriveremo magari ad averne altre 20, 30, 40, 50... 500.000 collezioni Sarebbe un bel modo anche per potervi salutare in uno dei nostri prossimi video e per poter partecipare a un prossimo contesto. Esatto. Quindi ragazzi, complimenti a tutti quelli che hanno partecipato complimenti a tutti i 10 finalisti e soprattutto complimenti ad Alessia e Roberto che hanno vinto. Esatto. Quindi direi che siamo giunti al termine di questo video ricordatevi di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto il video e di iscrivervi al nostro canale Tandem alla nostra pagina Facebook e da poco siamo tornati, diciamo, attivi vivi vivi su Instagram vivi e attivi su Instagram perché se avvicinare l'estate abbiamo un po' più di tempo da dedicare anche ai social. Un saluto da Gabriele da un po' italiano, va bene e un saluto da Stefano. Ciao. 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 Ciao.